cosa dice l'articolo 9 della costituzione italiana l'articolo 9 della costituzione italiana promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica tutela inoltre il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione recentemente questo articolo è stato modificato si è aggiunta anche la tutela dell'ambiente e della biodiversità dei ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali anche gli animali vengono tutelati dall'articolo 9 grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.